Eh, sì! Zilch ha usato la magia per rinchiudere il re nella sua torre di roccata! Non ci saranno più travestimenti per nessuno! Amici, non è affatto bello! Guarda! I bulldog! Ma che cosa stanno facendo con tutti quei bauli? Benvenuti nella cantina di costumi del castello! Questi cani da guardia sono nobili protettori, vedete? Vogliono tenere i bauli al sicuro dalla collezionista di costumi e aiutarli potete! Hanno molti bauli da spostare se vogliono il lavoro finire! Se volete superare questi bauli che sprecciano veloci, sopra ognuno di loro dovrete saltare! Scommetto che ci sono delle caramelle dentro questa pentolaccia! Per far uscire le caramelle dobbiamo colpire la pentolaccia fino a romperla! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Oh! Si muove! Come arriviamo alla porta se il ponte continua a barcollare? Benvenuti nella campagna del castoro dispettoso! Lui ama venire qui e fare con le carte costruzioni, case, ponti, strade e stazioni! Purtroppo le costruzioni di carta non sono stabili! Ora voglio sapere, siete abbastanza abili?